Si terrà domani, giovedì 19 luglio alle ore 18, presso l'hotel Cereri di Capaccio Pestum, il convegno conclusivo della campagna promozionale del carciofo di Pestum IGP, realizzata da Terraorti con il contributo dell'Unione Europea e della Regione Campania. L'iniziativa si propone di tracciare una panoramica completa sulle attività svolte nei mesi precedenti, con riferimento agli obiettivi raggiunti dal progetto e alle azioni intraprese affinché la valorizzazione del carciofo di Pestum IGP possa continuare anche successivamente alla conclusione dell'intervento.